ciao ragazzi scusate sono mancato da un po di tempo però adesso riprendiamo questa lezione di oggi sarà molto corta perché abbiamo deciso di fare diciamo pillole un po più strette in modo che voi possiate maturare più tranquillamente i discorsi che vengono fatti le lezioni bene allora il discorso di oggi è il blush da feel, il blush da feel tra l'altro uno dei diciamo dei feel più efficaci più interessanti tipo gli airta come abbiamo parlato anche nelle lezioni precedenti usati da merida di batteristi tra l'altro cominciamo a guardare i più importanti importantissime video che potete andare tranquillamente a vedere Eric Moore che parla dei blush da Gavin Harrison e vi fa vedere come loro li sviluppano a loro modo io ho cercato di farvi vedere con questa lezione di potervi farvi vedere ulteriori sviluppi di questo di possibili sviluppi però metrici cambiando le metriche perciò quello che vi faccio vedere io quello che andate a vedere e come ci si può muovere potete farlo alla grandissima da soli guardando filmati o addirittura se volete cimentarvi ancora di più sviluppando ancora di più questo potete prenotare delle lezioni diciamo con me o vedere i miei webinar o che sia sugli argomenti che siete interessati abbiamo scelto questo perché così almeno ognuno di voi avendo gusti diversi avendo esigenze diverse musicali magari uno è più interessato a una tipologia di feel a un certo genere musicale allora in questo modo cercheremo di diciamo dare a ognuno più possibilità specifiche ah bene prima di iniziare vi ricordo iscrivetevi al canale per noi è sempre importante bene vi farò vedere una cosa veloce dei blush da feel come possono essere utilizzati su un groove adesso vi mostrerò proprio l'udimento tradizionale perché non lo conosce che l'avete anche scritto sul pdf come dicevo prima e poi diciamo uno degli esercizi progressivi che cambiano la forma metrica mantenendo cioè aggiungendo dei diciamo dei colpi e o cassana in secondo momento cambiare proprio metricamente la struttura la forma il modo di diciamo essere suonato poi cambia il suono proprio musicale che viene prodotto per ora noi guardiamo solamente che cosa succede metricamente questa pillola veloce sarà il blush da tradizionale è in forma ternaria ok adesso gli esercizi che ho fatto faranno questa trasformazione metrica ripartendo da ancora prima ancora del blush da che è la tessina classica ora utilizziamo lo sticking del blush da diventando quartina allargandola diventa una sorta di paradiddle numero 2 partendo di sinistra però adesso vediamo cosa cambia se noi dovessimo trasformare il blush da e la quartina funzionerebbe in questo modo avete visto terzina che è la forma tradizionale diciamo dove nasce il blush da rudiment e l'allargamento che diventa una quartina con notte uguali perciò a questo punto se aggiungo ancora un colpo viene fuori praticamente una quintina perciò ora ve le faccio in fila terzina quartina e quintina esercizio numero 1 2 3 ok questo abbiamo eseguito l'esercizio 1 2 3 che sono praticamente il blush da ancora più semplice poi il blush da come ma in quartine che è il numero 2 e il 3 che è in quintina perché ha aggiunto un colpo no? perciò queste sono già tre diciamo metriche differenti la trasformazione metrica ora andiamo a vedere come viene usato anche da da tanti vi consiglio di andare a vedere Eric Moore, Gavin Harrison che hanno trattato questo argomento e tanti altri che ognuno poi ha il suo sviluppo no? come lo farete voi su questo o come andrete quando verrete a trovarmi o a prenotare le lezioni con me vi farò vedere altri sviluppi no? intanto vi do questo in input ve lo sviluppate come meglio credete ora l'esercizio 1A 2A 3A c'è scritto più cassa dietro cioè in fondo la cassa in fondo io aggiungendo una cassa cambia ancora il valore e mi aumenta di una nota perciò la terzina diventa quartina la quartina diventa quintina e la quintina diventa sestina con la cassa in questo modo perciò se io parto 1A 2A 3A 3A ok ragazzi vi saluto se volete poi portare avanti questo discorso come ha fatto Gavin Harrison Eric Moore e tutti gli altri e anche io ho tante cose da dire su questo prenotatevi delle lezioni che condividerò volentieri con voi tante nuove forme musicali su questo argomento bene allora a questo punto vi saluto ci vediamo alla prossima e come sempre vi ricordo che potete scaricare in basso il pdf della lezione ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti